Signori bentornati in un nuovo episodio di ARK ragazzuoli io vi chiedo al solito i due like tattici per questo video non so che cosa andremo a fare ma intanto vi voglio far vedere quello che abbiamo messo su qua in base quindi è arrivato il momento di mostrarvi come l'ho costruita allora qui troviamo delle panchinette tattiche qua troviamo tutte queste piantine qua, delle siepi con un piccolo laghetto che purtroppo è una moda e non è acqua vera ma ci puoi camminare sopra abbiamo una piccola fontanella sul lato, i lampioni per fare questa luce tattica questa qui è una mangiatoia però che viene da una moda quindi sfama gli animali entro il suo raggio qui devo metterci un falò in modo che ti siedi qua con gli amici e mangi qua c'è la zona barbecue dove come potete vedere ho cacciato un bel po' e quindi la carne si è accumulata parliamo di uno stack da 1000, più di 9000 di carne quindi fate voi quindi qua abbiamo il banco da lavoro che devo spostarlo questa è la zona casse quindi la zona il deposito dove manteniamo tutte le nostre risorse qui ci metto i progetti e le ricette che vado a trovare in giro nelle casse questa è una piccola statua di un gorilla non si vede un cazzo questa è la zona lavorazione qua ci sono due fornaggi ne potrò fare altre qua c'è il fabbricatore da questo lato abbiamo la zona cucina qua ci poso i materiali da costruzione qua ci faccio i colori qua ci poso le selle i pestelli sopra la cucina per fare le varie robe qua è la dispensa di cibo questa è una stanza per gli ospiti con tanto di armadio che questa qui è una mod che serve a craftare altre robe questa non serve un cazzo ma fa la sua porca figura appena saliamo di sopra troviamo la sala relax con i divani per riunirci nelle nostre operazioni tattici con tanto di cammino questa qui è la mia camera questa ve l'avevo già fatta vedere c'è il lettino è arrivato finalmente jackson che per adesso però non è con me in questo momento qua c'è molesto che sta dormendo questa casa è mia di molesto jackson non ama condividere le cose con me chiede un piezzo di eremita oltre che un piezzo de merda questo qui è il baule mio questo è l'armatura mia ne devo fare altre questo è quello di molesto questo è il baule di molesto qua si va nel cesso signori nel cesso aspetta quanto vedo se ho una torcia così vi faccio vedere meglio perfetto devo ancora fare l'illuminazione tattica questo è il cesso ragazzi con tanto di cesso originale è una vasca da bagno per rilassarsi con calma una volta che si esce dal bagno qua c'è la terrazza come vedete piena di luci una fontana ho rifatto un pochino il tetto che era il legno l'ho fatto con questi scalini che vi devo dire la verità ho preso ispirazione da jackson qua invece qua sotto troviamo troviamo la zona coltivazioni dove devo ancora alzare la serra ma mancano i cristalli non ne ho tutto quello che abbiamo fatto finora è stato fatto grazie alle risorse che ci siamo trasportati finalmente con i ragazzi dall'obelisco qua ho appena costruito l'incubatrice cazzo per fare schiudere le uova e infatti guardate qui come sta crescendo la nostra viverna di ghiaccio che l'ho chiamata sub zero tra l'altro uno di voi nei commenti mi ha detto di prendere un mio animale forte e chiamarlo diego quindi ti presento il mio t-rex cazzo si chiama diego questo è il t-rex che abbiamo preso nell'episodio se non sbaglio 3 o 4 su the island sulla prima mappa questo è quello di molesto che il bastardo si è craftato l'armatura tech non so come cazzo abbia fatto rinchio questo qui l'abbiamo preso ieri vi faccio vedere mentre un paio di animali qua abbiamo i due diplodoco qua ho fatto tutta l'impianto idraulico insomma che va dal fiume e arriva fino a qui la zona dell'incubatrice come vedete ho messo il gazebo che non sapevo dove mettere qua quindi ci sto piantando le varie bacche nere per produrre qua abbia oddio è nato è nato è nato tagli due bacche che sta morendo il buon uomo tieni mangia oddio è nato veramente assurdo aspetta 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 che si fanno tutto dove cazzo sei? ho ti allontanare ok questo qui lo avevo avevo appena finito di far trombare i due c- oh questo mi ha rotto i coglioni lo devo prendere ma un'ora che mi gira qui avevo fatto accoppiare qua shrek e fiona è la femmina l'ho chiamata fiona la fantasia però è nato questo qui livello 159 che non è male non è male 159 ed è una femmina anche anche questo tanta roba tanta roba quindi abbiamo tre gorilla abbiamo shrek fiona questo qui non so come cazzo chiamarla diamo così dragon la mia viverna l'uccello del terrore questo l'ho preso all'inizio quando sono arrivato qui qua abbiamo tutti gli opterodattili oh un uovo incredibile abbiamo preso ieri un grifone questo qui è quello di molesto ho appena preso una rana si perchè io non vivo senza la rana mamma mia quanto sei figato e dopo di che abbiamo 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 pure ho preso un cazzo di cocco drillo e un barionice guarda quanto è figo questo devo ancora fargli la sella ma qua c'è un altro pterodonte un'altra femmina vabbè questo fa cagare guarda posso ucciderla almeno levo spazio e questo qui è l'argentavis che si è preso zexon durante un'esplorazione che abbiamo fatta adesso vi faccio vedere quanto posso l'argentavis qua che tra un po' mi servirà perchè ho visto dove si trova il ferro adesso vi faccio vedere io se non sbaglio dovrei aver craftato una mappa e messa qui esatto allora il ferro si trova qui in quest'isola a nord est pieno di ferro e anche qui oppure nella zona vulcanica se ne trova pure parecchio la zona vulcanica dovrebbe essere questa tanta roba ho preso il coccodrillo perchè è un animale acquatico ma veloce soprattutto io trasferendomi un po' di risorse ho già la muta solo che non è in buone condizioni ecco a livello di materiali ci manca ah vedi questi qui sono gli animali che ci eravamo trasportati vi faccio vedere qual è il problema il problema di questi animali è che si sono bagati per esempio questo qui è un parasauro no? ovviamente tutti i nostri animali erano a livello alto però non so perchè purtroppo guardate come potete vedere l'animale è a livello 1 quindi tutti gli animali che abbiamo trasferito con le capsule purtroppo non servono più a nulla perchè sono a livello 1 bastardo e quindi ragazzuoli questo qui è stato il problema che abbiamo trovato perchè avevamo vedi vola a livello 167 si è bello che qua ti dice pure i livelli 150 un metalupo a livello 285 cioè eravamo veramente qua il mio pipistrello batman si chiamava non lo so li lascio lì perchè magari riuscirò a trovare un modo per sbaggare la situazione abbiamo un po' di merda io direi di metterla qui e iniziare a far crescere le colture la viverna di ghiaccio è al 79% questa parte volevo farvi vedere soltanto quella che è la mia casa adesso io proverò a farmare un pochino di polvere da sparo infatti mi ero già fatto qua nella polvere pirica 186 siccome ho tanta carbonella dovrei fare abbastanza polvere da sparo poi la metto qui il ferro si sta esaurendo questo qui è tutto ferro trasportato io qui il ferro non ne ho raccolto completamente in questa mappa con questo ferro qui proverò e a farmi tanti dardi dardi narcotici perchè di narcotici ne abbiamo craftati guarda in quantità industriale guarda ho tanta carne e inizio a marcire finalmente e quindi possiamo fare tanti narcotici io ho ah ho catturato pure questo qui questo qua è quello di zey il t-rex di zey senza sella ho catturato il megaterio non l'avevo mai presa sta roba qui devo fargli la sella solo che la sua sella costicchia un po' però ho notato che trasporta un bel po' di peso ha tanta vita non è malvagio sta cosa solo che come vedete il megaterio eccolo qua 55 lingotti di ferro 100 di pasta cementizia onestamente volevo farmi un giro di ricognizione nelle casse vedere se riuscivo a trovare un paio di selle così gratis metterei questa carne qua a cuocere mi svuoto l'inventario ok una volta svuotato l'inventario volendo potremmo andare con una viverna è cresciuta e vabbè ormai raga che dice facciamo il viaggio inaugurale però la rana è molto utile perché può addomesticare gli animali essendo velenosa come quasi ogni animale velenoso e ha un altro animale che ho preso è questo qui che me lo sono trovato qui in base livello 140 l'ho preso con un paio di dardi perché mi sono trasferito il mio fucile ascendente che avevo trovato in una cassa cioè che è molesto ha trovato in una cassa e mi ha regalato questo bastardo qui non è niente di che però è un animale su cui si ci può fare la sella con la piattaforma quindi si può costruire una casa sopra quest'animale è un ottimo animale da caccia perché come vedete trasporta tanto peso e il fatto che ci puoi fare la casa sopra permette a tutti i tuoi compagni magari di sparare magari montargli un cannone e prendere animali duri ovviamente servono le risorse cosa che noi non abbiamo mai colgo tutta questa merda qua che mi serve ma io prima di spostarla devo bere madonna acqua fatemela mettere vicino a quella di fuoco mamma mia è tipo scheletrica dietro guardate qui fuoco e ghiaccio i miei cuccioli guardali lì mamma mia no raga è proprio potente sta roba allora io direi di andare a recuperare un po' di animali il problema è che per recuperare gli animali forse non è la viverna il massimo per via del fatto che non posso sparare mentre piloto la viverna direi di portarci il grifone perché sul grifone come potete vedere posso prendere il fucile mentre lo piloto una delle tecniche più veloce più semplici per andare veloce col grifone è quella di salire in picchiata cioè salire puoi andare in picchiata e avanzare così guadagnando velocità come vedete il grifone secondo me è uno degli animali se non il più veloce questo suo modo di avanzare può sembrare lento ma invece ti sposti velocissimo nella mappa poi calcoliamo sempre che la velocità può essere aumentata allora a me servire cosa sono cosa sei vedo un cazzo ah i cavalli eh vorrei prenderlo un cavallino aspetta un attimo vediamo se riesco a prendere un cavallo porca puttana ci credete che un cavallo non l'ho mai preso il cavallo in teoria dovrebbe essere tipo il parasauro questo è sempre voglio prendere questo perché sembra una zebra dovrebbe essere tipo un parasauro comunque raccoglie bacche minchia devo dare un altro colpetto e la particolarità appunto è che io ho inserito una mod che permette di creare la carrozza e collegarla al cavallo di conseguenza qui i cavalli proprio nel cioè potremmo fare proprio delle vere carrozze medievali ed è una cosa molto figa anche perché la carrozza trasporterà un mare di peso che non penso vada al cavallo quindi sarebbe un modo perfetto per raccogliere risorse vi immaginate partire con i cavalli con la carovana no ma è una cosa da fare devo prendere i cavalli devo prendere i cavalli e costruire la carrozza vedete devo fargli un paio di colpi vediamo se riesco a ritrovare la zebra di prima dovrebbe essere quella che era il 50% quindi un altro colpetto dovrebbe addomesticarsi speriamo che non scappa perché ogni tanto rompono i coglioni scappano per quello mollo sempre dai 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 veloce mamma mia sì l'ho preso no ma che cazzo è successo questa mia è nuova cioè l'ho cavalcato da dietro ma non so cosa dovevo fare fatti addomesticare madonna porco di un cavallo ma io l'ho cavalcato ma ma si sta addomesticando e non l'ho capito ci sono sopra ma non ho capito che cazzo sto facendo lo sto addomesticando raga sto tenendo è premuto non so se a caso ok è mio 142 di livello ma veramente no bellissimo raga io ho un cazzo di cavallo sono a posto ok meno male che io ho la capsula così lo teniamo e poi a casa se lo facciamo sarebbe bello prendere una femmina perché così almeno li facciamo accoppiare sti cazzi adomesticamento così bene proseguiamo il nostro piccolo viaggetto abbiamo preso il cavallo qua siamo in una zona che dove non sono mai stato cioè ci sono stato ma non mi ci sono mai soffermato chissà se in questa zona possiamo trovare i nidi di castoro sarebbe oh dei mewing come cazzo sono questi questi animali qua allatta i cuccioli allatta i cuccioli e dinosauri che fate che livello sei tu sei livello 15 in realtà io il binocolo e non lo uso mai madonna 140 e 130 molto utile prendere una micchia che cazzo è tieni le bacche dove cazzo è quello livello 130 lo prendo pure così devo il pensiero ne prendo due che raga ma livello 130 è forte eh non è male livello 130 c'è 140 questo qui c'è già OP ho preso un mewing OP e questo è un bene raga perché stiamo recuperando animali che purtroppo abbiamo no stavo sparando mi ha fatto mettere il nome perfetto un dardo minchia quante OP il coso ascendente perfetto oh quello lì invece è un morellatopo questi animali sono ottimi per un inizio sopravvivenza nel deserto ti permettono di trasportare acqua loro si riempiono d'acqua e quindi potete bere da loro come non lo so non fatevi domande però potete bere da loro adesso mi incuriosisce il fatto che c'è un uno stegosauro questo qui vorrei ucciderlo per recuperare i circuiti roba che ho sprecato in un modo incredibile per farmi per farmi l'incubatrice perfetto c'è una nebbia incredibile perfetto i due mewing ce li abbiamo raga io farei una roba dato che abbiamo le capsule sarebbe molto figo da parte mia svuotare gli animali tanto sono a livello 1 purtroppo e almeno ci prendiamo le capsule e portiamo a casa questi ok ragazzuoli ho posato il cavallo a casa adesso mi dirigo di nuovo dai mewing ah lì ti dice tra qua sì perché se abusate della capsula che quindi mettete gli animali nella capsula li rilanciate subito se abusate appunto di questa capsula l'animale andrà cioè perderà i sensi gli verrà una crionausia questa cosa significa che l'animale resterà incosciente per un bel po' di tempo quindi non copiene farla aspettate i 100 i 250 secondi che vi dice lì vedi in basso a destra ok l'animale dovrebbero essere qui sono questi i miei eccoli qui am ho portato un po' di capsule come potete vedere mi prendo no ma è perché puttana addio e adesso devo aspettare che questo qui si riprenda mamma mia sette mesi dopo ah mi sono dimenticato pure il bastardino che ho in spalla guardalo lì minchia raga qua dovete sceglierlo voi il nome allora è brutto non serve o cazzo roppe i coglioni e caga quindi fate voi tra l'altro si può dire che tutta l'incubatrice che ho fatto a casa adesso che ci penso spero che lui non guardi mai questo video l'ho fatto tutto fottendogli le risorse a zexon perché lui è un farmer di merda questi due morella topo sono livello di merda quello è un livello 55 e 25 quindi 25 45 255 fanno tutti schifo tu a che punto sei che c'hai la crionausia sei a metà vabbè intanto c'è questo lago che è un ottimo punto di riferimento per trovarlo allora aspettate un attimo che qua vedo qualcosa di interessante intanto tu cosa sei dove cazzo è che non lo vedi ma sei un mewing manco lo ricordi oddio il quetzal mio quest'animale è una delle robe più utili che esista su questo gioco trasporta un mare di peso si ci può fare la sella sopra tanto peso questo sarà ottimo per andare a caccia di risorse e in più vola questo ne vale tutta la spedizione dai 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 abbiamo preso un cavallo due mewing se prendo pure il quetzal abbiamo fatto bingo questo qui ieri l'avevamo avvistato con molesto poi l'abbiamo perso di vista perché non riuscivo a trovare io molesto che lo cercavo lui mi dava delle indicazioni vai all'obelisco vai a fa culo e io non lo capivo l'importante tra l'altro voi vedete quanto è semplice addomesticare un quetzal questo qui di norma se non avete un animale come il griffone o il pipistrello che ti fa sparare sulle selle bam preso nostro dicevo se non avete un animale del genere è impossibile prendere un animale come il quetzal perché vola e voi non potete sparare e pilotare allo stesso tempo se non sbaglio il quetzal mangia della carne ma sai che ho il dubbio se mangia bac guarda nel dubbio ok nel frattempo qua ci sono altri due morellatopoli livello 15 livello 90 forse quello livello 90 potrei anche prenderlo considerando che non me ne faccio un cazzo invece magari lo ammazzo e mi procuro della carne hanno una bella corazza però sono una merda troppo una merda aggiungerei vediamo se il quetzal un pochino ha iniziato a mangiare almeno un po' si perfetto sta mangiando l'importante è questo è carino il mewing però è tipo una papera una specie di papera mamma mia livello 210 tu fai paura livello 210 ragà un quetzal 210 questo l'abbiamo preso addirittura più forte di quello che avevamo noi perfetto abbiamo il quetzal e due mewing allora per esempio qui c'è un branco di raptor fatemi osservare la situazione livello 20 un raptor livello 45 questo è un alfa livello 85 mi rompe il culo c'erano qua due coccodrilli e un t-rex vorrei vedere che livello sono magari senza farmi ammazzare che cazzo è allora sarcosucco livello 50 livello 20 e il t-rex era lì in fondo che non lo vedo più sarebbe buono uno stego per la legna 85 potrebbe volendo anche andare 20 vabbè qua non mi interessa niente da una parte ritornerei a casa a farmi a farmi un po' di risorse cioè un po' di di proiettili questa luce rossa potrebbe essere golosa chissà se ne vale la pena aspettarla ma si 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 aspettiamo la luce rossa nel frattempo vedo se qua ci potrebbe essere qualcosa di utile nei dintorni il mewing è divertentissimo da cavalcare raga è pure veloce è plana tipo come se ti va a planare a pelo d'acqua fa robe assurde il mewing triceratopi ecco un triceratopo non sarebbe male allora qua ne abbiamo due esemplari uno è livello 20 l'altro è livello 130 madonna allora intanto mi elimino quello al 20 dopo di che dovrei riuscire eh lo sto colpendo sulla corazza madonna mia porca puttana che non lo vedo il problema è che lui mi va di fronte quindi è difficile ok l'ho preso bene stavolta eccolo lì se la per il pelagornis non me ne fregava un cazzo non me ne fregava proprio nulla del pelagornis in teoria il pelagornis dovrebbe essere quella specie di anatra che vola gabbiano diciamo oh ma porco di morì fermati animali e intelligenza artificiale di merda spero che in arc 2 sta roba non si veda più eh raga è difficile perdere un triceratopo così eh io ce l'ho fatta ma dove cazzo è il triceratopo ce ne vuole per perdere un triceratopo di vista eccolo lì niente adesso si buggerà per i prossimi 65 anni non è che sanno atterrare sti animali se non li fai atterrare tu rimangono in volo anche se sono a un centimetro da terra perfetto è un po' come catturare i pokemon allora abbiamo preso un quesal due mewing un triceratopo il cavallo la viverna di ghiaccio si è schiusa raga per me è una missione compiuta io direi di fare ritorno a casa ragazzoni nel prossimo episodio proveremo a cercare altri animali magari anche con i ragazzi quindi signori io vi saluto dal mio grifone è tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio con Ark ciao belle miele ciao 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 ciao